Mimmo Mancino sta mettendo così sul piatto il programma si chiama Sotto a Chi Tocca, con noi ci saranno altre ragazze, ci saranno tantissimi partecipanti, perché chi sa cantare, ballare, recitare, direi barzelletto o poesia, allora Sotto a Chi Tocca. Vi aggiorneremo alla prossima trasmissione. Ma io prima di salutare, prima di salutare volevo così, farvi ascoltare un altro brano, lui è sempre lui, il re della canzone napoletana, e Mauro Nardi, che io vado così a dedicare a tutti i fans di Mauro Nardi, poi lo voglio dedicare tutto per Donatella, per Lorena, ancora per...